Attivo sin da bambino nel cinema e soprattutto in televisione. A nove anni diede la voce a Lucky nel lungometraggio della Walt Disney La carica dei 101 e a 13 anni. Divenne noto al grande pubblico impersonando il giovane David Copperfield nell'omonimo sceneggiato. Televisivo della Rai, ha doppiato molti attori internazionali. Tra cui Tom Cruise, Tom Hanks, John Travolta, Andy Garcia, Dennis Quaid, Kurt Russell e molti altri. È apparso come attore in diversi spot. Fiat Panda Super, 1982, Shampoo Egor, BMW Serie 3, Biscotti Plasmon, successivamente al doppiaggio di Top Gun. Dal 1986 al 1989 i film più importanti con Tom Cruise vennero doppiati da Mauro Gravina. Nel 1989, col doppiaggio di Rai in Manuomo della pioggia. Chevalier diventò il doppiatore ufficiale di Tom Cruise. Nel 2005, però, fu sostituito da Riccardo Rossi nei film La guerra dei mondi e Mission Impossible III. Fu organizzata però una petizione online per il ritorno di Chevalier. E nel 2007 è tornato ad essere la voce ufficiale di Cruise. Sempre per il doppiaggio di Cruise. Nel 1999 fu prescelto dallo stesso Stanley Kubrick per Ace Videsha. Ma all'ultimo momento il direttore del doppiaggio Mario Maldesi gli preferì Massimo Popolizio. Chevalier è anche direttore del doppiaggio e dialoghista delle serie TV XI. Scena del crimine, XI, Miami e XI, NY. Ed ha partecipato, come attore, alla terza e alla quarta stagione di Distretto di Polizia. È stato direttore di doppiaggio di circa 100 film. Tra cui Moulin Rouge, La cena dei cretini, Mamer, L'apparenza inganna, Zuno, Transamerica, Little Miss Sun-Cin, Decore, Blade e Il grande match. Nel luglio 2006, ha vinto il premio Leggio d'Oro per la migliore interpretazione maschile dell'anno per il doppiaggio di Tom Hanks in Il codice da Vinci. Dal 2001 è compagno della doppiatrice Elena Morara. È il figlio Davide che valiere doppiatore a sua volta.